Sala Orofino affollata di imprenditori arrivati da tutto l'Abruzzo per conoscere le prospettive e le opportunità di crescita e di formazione utili a proiettare le imprese sui mercati internazionali. Il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, ha aperto i lavori del convegno Confindustria nello scenario internazionale, ricordando che l'innovazione e l'internazionalizzazione sono i veri driver di crescita per il futuro delle nostre imprese. Tra gli altri interventi anche quello del presidente di Confindustria Russia Ernesto Ferlenghi che ha illustrato il corrispettivo mercato. È un paese che comincia a scommettere sulla strategia industriale e che vuole riconquistare la propria indipendenza dopo essere stato per 50 anni importatore di tecnologia. Il direttore della delegazione Confindustria presso l'Unione Europea, Matteo Carlo Borsani, ha spiegato le tensioni tra Stati Uniti e Cina e la situazione complicata in atto con l'Iran. Le conclusioni e il coordinamento sono stati affidati ad Alessandro Addari, consigliere di presidenza e delegato per l'internazionalizzazione di Confindustria Chieti Pescara. Con questo progetto intendiamo fare sistema a livello nazionale, locale e internazionale perché è importantissimo per la nostra regione, per il tessuto di piccole e medie imprese in particolare capire che le imprese non sono sole, c'è un sistema intorno di Confindustria e di altri soggetti importantissimi. Qui avremo tra l'altro ICE, agenzia, avremo SACE, di Cassa Depositi e Prestiti. Insieme possono davvero tracciare un percorso per far crescere il nostro tessuto produttivo soprattutto consolidando i mercati europei ma anche andando a cercare delle opportunità al di fuori dell'Unione Europea con paesi che crescono a due cifre e chiedono made in Italy di qualità dove quindi noi possiamo davvero recitare un ruolo da protagonisti. Il percorso si riunisce in un percorso più ampio di Presidente Informazione dove noi cercheremo di dare agli imprenditori con cariche associative all'interno del sistema quegli strumenti necessari per poter competere sempre di più sui mercati italiani e internazionali.